Mio marito per lavoro si muove molto e senza mezzi di trasporto rischiava di perdere il posto. Abbiamo deciso di comprare uno scooter, ma in banca ci hanno rifiutato il prestito che ci serviva. Ci siamo rivolti così ai centri di ascolto della Caritas Diocesana di Rimini. Gli operatori dell'associazione Famiglia Insieme ci hanno ascoltato, capito la situazione e con loro siamo andati in banca. Una banca particolare. Grazie alla Caritas e a EtiCredito, la banca etica adriatica di Rimini, siamo infatti riusciti ad ottenere il prestito di 2000 euro di cui avevamo bisogno. In qualche giorno abbiamo potuto comprare lo scooter e ora abbiamo iniziato a restituire il prestito. Un piccolo prestito, un grande aiuto! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!